Oggi 15 febbraio 2021 ci troviamo qui nella cucina del patronato San Sebastiano a Vigonza in compagnia di tre care amiche volontarie e qui vediamo raffigurati i gruppi con il quale il patronato ha iniziato a far lavorare la cucina. Erano dei gruppetti numerosi di donne che si trovavano in allegria tanto per creare la convivenza e armonia tra i paesani. La prima a cui presentiamo è Gloria. Io sono la nuova responsabile della cucina, qui ci troviamo per organizzare i pranzi in parocchia e la sagra. Tutto si protrae con il menù. Quando ci sono i pranzi prepariamo il menù, si va a fare la spesa e poi ci mettiamo qui con le nostre pentole a preparare assieme a tutte le altre amiche che si sono aggiunte in questi anni. Questa è la Luisa. Ciao, anch'io ho iniziato con i campi scuola, poi con la sagra e adesso siamo qua. Ormai quest'anno, a causa Covid, siamo un po' ferme, comunque lavoriamo volentieri, siamo un bel gruppo. Chi vuole aggiungersi, siamo qua insomma, ci divertiamo anche tanto. Questa è la Lorella. Ciao, io sono Lorella. Faccio parte di questo gruppo da diversi anni. Anch'io ho fatto un po' di campo scuola, a sagra e adesso facciamo parte di questo gruppo. Siamo diverse, tutte affiatate, tutte diamo quello che possiamo, un'ora, due ore. Il tempo non è definito. Quello che possiamo fare. Ci divertiamo, lavoriamo tantissimo sicuramente, però vi assicuro che quando arriva sera abbiamo gioia nel cuore. Siamo felici di quello che abbiamo fatto, anche perché le persone ci ringraziano, ci danno molta, molta soddisfazione. E anche siamo un po' felici di fare aggregazione. Posso consigliare questa esperienza alle persone. Chi vuole inserirsi in questo gruppo, benvenuti entieri. Chi ha voglia, lo aspettiamo. Ciao a tutti.